Ma è sempre una cosa soggettiva, un giocatore a 41 anni ha fatto quello che ha fatto, a tornare alla Juve che ha fatto la storia è perché si sente ancora importante. È chiaro che l'età conta molto, non sarà sicuramente il buffone che noi abbiamo visto in questi anni, però magari vuole chiudere la carriera nella squadra dove ha fatto di più, con un ruolo diverso di come lui ci ha abituato. E' più un discorso affascinante che è calcistico. E' calcistico, sì.